Quando si accorse che io non dava loco per lo mio corpo a trapassar di raggi, mutarlo al canto, in un O, lungo e rovo. E due di loro, in forma di messaggi, corso l'incontro a noi e dimandarne. Di vostra condizione fatene saggi. E il mio maestro, voi potete andarne e ritrarre a coloro che vi mandarono, che il corpo di costui è vera carne. Se per vedere la sua ombra restaro, come io avviso, assai è il loro risposto, ed esser porlor caro. Vapori accesi, imbediosi, tosto di prima notte, mai fender sereno, messo il calando, nuvole d'agosto, che color non tornasse al suzo e meno. E giunti in là, con gli altri a noi, di ervolta, come schiera che scorre senza freno. Questa gente che premi a noi è molta, e venguti a pregare, disse il poeta. Però, non lo fa, e in andando, ascolta.